Un'azienda artigianale, artigianale nel senso che è un'azienda italiana, storica, è stata fondata nel 1946 con i primi sci, nacquero i primi sci da scialpinismo, le prime lamine montate sugli sci da discesa, gli sci più classici, e con la progressione delle tecnologie, con un progressivo orientamento all'alleggerimento dei prodotti, la Schitrab è sempre stata una di quelle aziende che ha guidato un po' il mercato. Abbiamo sempre cercato di seguire quello che era un po' la richiesta e cercare anzi di anticipare un po' le esigenze del mercato. Inizialmente i nostri prodotti erano più orientati ad un mondo race, tant'è che tuttora siamo ancora leader nel mondo gara dello sci alpinismo. L'orientamento dell'azienda adesso è completamente rivolto a quello che è il mondo dello sci alpinismo classico, lo ski touring, con un occhio verso il free touring. Quindi nei prossimi anni, probabilmente già dall'anno prossimo, avremo già dei prodotti che si orienteranno più verso un mercato che oggi ancora per noi è un po' borderline. Sicuramente Schitrab, oltre al mondo gara, dove ripeto siamo tuttora i leader incontrastati, siamo molto forti in quello che è la gamma del leggero, quindi dai 75 agli 85 mm sotto il piede. Quindi per il classico sci alpinista che chiede un prodotto, oltre che performante e duraturo nel tempo, che è una delle cose più importanti che adesso vi racconterò, anche un prodotto comunque leggero. Quindi non di certo il free rider ancora per questa stagione. Made in Bormio cosa vuol dire? Per noi il Made in Bormio è un marchio di fabbrica, ci piace anche rappresentarlo e quindi anche per voi avere l'opportunità di farlo vedere ai clienti sui nostri sci. Perché il Made in Bormio è una nicchia del Made in Italy. Lavorare sulle montagne, pur essendo a Bormio, che è un paesino abbastanza in basso come quote, però comunque è in un fondo valle e a livello logistico e a livello di materiali, componenti eccetera, non è per nulla banale. D'altro canto però Schitrab ha scelto di continuare a lavorare in questa direzione, tant'è che abbiamo appena investito e ci trasferiremo a breve in un nuovo capannone, proprio per rimanere sulle montagne, per stare a contatto con la neve, a contatto con gli sciatori, con le guide alpine. Vi faccio l'esempio solo di un prodotto che è quello, diciamo, il nostro prodotto principale che stiamo studiando per i prossimi anni. Abbiamo tutta una serie di prototipi e l'essere a contatto con la neve ci consente tutti i giorni di poter fare quelle piccole modifiche in azienda e poi andarle a testare immediatamente. Quindi avere un feedback molto veloce e immediato sullo sviluppo dei nostri prodotti. Allora, il nostro sci da gara è uno sci che è stato il più vincente negli ultimi anni, è il più vincente tuttora perché abbiamo l'ultima Coppa del Mondo ancora con Robert Antonioli che è la quarta non consecutiva. Siamo il marchio sicuramente che ha la gamma più ampia di prodotti sul mondo gara perché abbiamo due sci dedicati agli uomini, quindi nel Flex 60 e nel Flex 70, dove il Flex 60 è quello un po' più morbido, il Flex 70 è il classico sci per tutti con un rinforzo nella parte posteriore della coda. Abbiamo uno sci dedicato alle ragazze, quindi alle atleti femmine, è praticamente un Flex 60 molto morbido e è appunto orientato ad un pubblico, ad un target femminile. E poi c'è lo sci gara che avete anche voi in collezione, è sicuramente uno dei prodotti più interessanti per un pubblico, d'abitudine quello che abbiamo nei negozi. Allora, quando ci vengono a dire ok, Skitrab ha cambiato lo sci, dopo erano otto anni che aveva lo stesso sci, cambiavano le grafiche, cosa ha cambiato e perché? Allora, il perché? Noi lavoriamo appunto con gli atleti, cioè proprio l'esigenza degli atleti è quello che ci guida nelle modifiche dei nostri prodotti. Le richieste erano due, da un lato era quello di rendere lo sci più veloce in salita, proprio perché aveva una punta molto larga e tendeva a fare un po' di attrito facendo scorrere le pelli nella salita. E poi comunque uno sci che se si poteva migliorare qualcosa a livello di performance in discesa ne sarebbe stato solo che di guadagnato. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di seguire un po' l'orientamento del magico e del maestro e quindi come prima cosa di allungare la punta e allungare la coda. Quindi sostanzialmente possiamo dire che gli sci adesso sono leggermente più rocherati. Vedete come il punto di contatto della punta oggi è qua, mentre prima era molto più avanzato. Avere questa punta più lunga ci consente come prima cosa di avere una minor frizione della pelle, proprio perché nella parte alta la pelle non tocca sulla neve e quindi non fa questa tipologia di attrito. Allo stesso modo nella coda. La coda poi è stata rastremata per due motivi. Uno per entrare più facilmente nello zaino. Quando si fanno i cambi, quindi nel classico anello che abbiamo nello zaino è più comodo farla entrare in questa maniera. Dall'altra è stata proprio ristretta, qui per un discorso di migliorare la tecnica di discesa. La coda larga tendeva alcune volte a spigolare un pelino, comunque lo si sentiva in chiusura di curva. Averla affusolata ci consente di avere una curva, di poter fare una curva in maniera più armonica. E allo stesso punto abbiamo avanzato il punto di contatto appunto dello sci sulla punta. In questo modo riesce a prendere prima e riusciamo ad impostare meglio la curva. L'ultimo aspetto. La posizione dell'attacco è stata avanzata di quasi un centimetro e mezzo. Quindi per avere un controllo, un baricentro più avanzato. È lo stesso discorso che vi avevo raccontato due anni fa su tutta quella che è la collezione Turing e che dopo vi riproporrò. In sostanza quindi, due parole in breve, cos'è cambiato? Nulla a livello costruttivo, quindi lo sci è esattamente lo stesso di prima a livello di anima interna. È l'anima che avete girato prima, quella lì con l'interno in aramide. Quindi composizione di legni duri e pesanti ai lati e anima interna in aramide. L'unico sci che si contraddistingue è il gara. Il gara è il nuovo power cup sostanzialmente, quello che avevate già nei negozi. L'abbiamo cambiato, gli abbiamo sostituito il nome proprio per renderlo ancora più vicino a quello che è il work cup. Le geometrie sono identiche, quindi la novità di quest'anno sono le geometrie in tutta la collezione gara. E gara appunto segue esattamente la stessa filosofia. La differenza tra lo sci gara e tutta la gamma dei work cup è l'anima interna. Quindi vi ho fatto vedere prima che avevamo un'anima in aramide che sono nei primi tre prodotti. L'anima in legno è solo nel power cup, nel gara scusatemi. L'anima in legno ci consente di avere uno sci molto più flessibile sotto il piede, quindi più morbido, quindi per tutti. Mentre invece lo sci da gara, il work cup è uno sci chiaramente più aggressivo, è lo sci per chi cerca la massima leggerezza, la massima performance sia in salita che in discesa. Mentre invece gara è uno sci che perdona un po' di più l'errore sostanzialmente. Quindi anche per uno sciatore medio o comunque che pur essendo un ottimo sciatore vuole salvare un po' la gamba in discesa, vuole avere uno sci più morbido che segua un po' di più, sia un po' più armonioso, sicuramente è la soluzione più interessante. A poi un altro vantaggio e uno svantaggio. Allora lo svantaggio ve lo dico per primo è il peso, perché pesa circa 70 grammi, 80 grammi in più del work cup. Quindi per un atleta di altissimo livello che cerca la massima leggerezza, chiaramente potrebbe non essere il prodotto indicato. Dall'altra parte però, gara è anche uno sci molto più economico rispetto al work cup. Quindi facendo un piccolo riepilogo su quella che è la collezione gara. Nuovo shape, geometrie completamente rinnovate, per garantire un miglior scorrimento nella fase di salita e un miglior controllo in discesa. Poi c'è la collezione ultralight, maestro e magico sono due prodotti che hanno un nome storico, e quindi tant'è che li abbiamo mantenuti, li abbiamo chiamati maestro e magico punto due, ma soprattutto perché a livello di performance, di mercato vanno molto bene. Due anni fa li abbiamo appunto rinnovati nelle geometrie, oggi sono degli sci che sono molto più semplici in fase di sciata, molto più performanti, a livello di peso rispetto a quello che erano i vecchi maestro e magico non sono cambiati, perché siamo rimasti pressa poco agli stessi livelli, quindi le novità di questi prodotti non sono più state orientate ad un alleggerimento dei pesi, cosa che invece aveva guidato il mercato fino a due o tre annetti fa, ma è stato quello proprio di cercare di offrire un prodotto più semplice possibile, facile per tutti e per tutti quelli che cercano chiaramente una massima performance. Massima performance perché? Perché all'interno abbiamo una struttura in nido d'ape, quella ramide che avete visto prima nello sci da gara è all'interno anche di questi prodotti, e la calza è quella lì nera 100% carbonio, quindi una calza in carbonio consente di avere una fortissima rigidità torsionale, quindi quando andiamo su, soprattutto quando ci troviamo su un percorso molto tecnico, su un pendio ripido dove magari siamo con le lamine appoggiati e dobbiamo essere pronti a fare un cambio di una virata sostanzialmente, è lì che lo sci con la calza in carbonio resta un po' più rigido e quindi ci consente di cedere meno e di essere un po' più precisi nel movimento tecnico. Dall'altra parte l'anima in a ramide rende lo sci rigido sotto il piede, quindi è uno sci poco flessibile, pur essendo comunque con un flex progressivo, però comunque rimane abbastanza rigido sotto il piede, proprio per chi da un lato cerca la massima leggerezza in salita, perché qua parliamo di sci che sono abbondantemente sotto il chilo sul maestro, 75 mm, e intorno al chilo sull'85, poi varia a seconda delle misure. Però sci molto rigidi sotto il piede, quindi poco flessibili, rigidi a livello torsionale, per chi cerca la massima performance in tutte le condizioni di neve. Dall'altra parte appunto poi c'è la gamma touring, la gamma touring ha la caratteristica di essere con l'anima in legno, quindi come vi dicevo prima, per esempio nel gara, sci più morbidi, più flessibili, più armoniosi, per tutti sostanzialmente. Abbiamo una gamma anche qui molto ampia, abbiamo il 76 mm, abbiamo l'85, e ce li abbiamo in tre versioni differenti. E abbiamo Gavia, che è lo sci più morbido di tutti, più morbido, più flessibile, che potrebbe anche essere orientato verso un pubblico prettamente femminile, ma io dico non solo, non solo perché ci sono anche tanti sciatori di peso medio-leggero, chiaramente non possiamo suggerirlo a uno sciatore molto pesante, che cercano lo sci morbido, flessibile, il più semplice possibile sostanzialmente. E quindi questa potrebbe essere la soluzione più ricercata. C'è lo stelvio, che è una via di mezzo sostanzialmente, sempre composto con l'anima in legno, e la calza in fibra di vetro, che è questa, quindi sia stelvio che gavia hanno questa tipologia di calza, quindi più morbidi anche a livello torsionale, e poi c'è uno sci ibrido, anzi due sci ibridi, che sono ortele e sebernina. Ortele e sebernina hanno la caratteristica di avere l'anima in legno, così come stelvio e gavia, appunto morbidi, molto molto morbidi. Però abbiamo deciso di aggiungergli una calza in carbonio, come nei modelli di alta gamma, proprio per renderli più performanti a livello di rigidità torsionale. Altavia è uno sci che ricalca quello che sono le geometrie di due anni fa, quindi il classico Altavia, lo conoscete tutti, è stato il nostro sci più venduto per 5, 6, 7 anni. Molto morbido, molto facile. Il vantaggio che avete in Altavia è che la struttura esterna, quindi sia a livello di superficie, sia a livello di soletta e lamine, sono molto rinforzati, quindi garantiscono anche una massima durabilità. Però è uno sci morbido, con l'anima in legno, super flessibile. Se la durabilità negli altri sci è garantita, qua lo è ancora di più, proprio per come vi dicevo, una superficie antigrafio, che è molto difficile da danneggiare, e anche i fondi e lamine rinforzati, che appunto durano ancora di più nel tempo. Passo all'attacco. L'attacco gara è un attacco molto di nicchia, lo sapete anche voi, ci perdo poche parole, però voglio solo farvi prestare l'attenzione su questa cosa qua. È l'attacco che viene più utilizzato in Coppa del Mondo. L'anno scorso abbiamo fatto sei Coppe del Mondo su sei. Per chi avesse il nostro attacco, comunque per chi quest'anno è orientato ad acquistarlo, solo, ripeto, a titolo informativo, gli potrete garantire che non dovrà sostituire l'attacco, ma semplicemente un altro anno ci sarà da cambiare una piccola mollettina e lo aggiungeremo. Quindi un po' come il sistema oggi nel mondo touring, è un sistema modulare, quindi si può aggiungere, si può togliere. Quello invece su cui voglio spendere un paio di parole in più senza dubbio è il nostro attacco titan-bario. Lo conoscete, voglio darvi ancora un'infarinata proprio per rinfrescarvi un po' la memoria perché è sicuramente fondamentale per noi spiegare in quale direzione SkiTrab sta lavorando e perché vogliamo lavorare in questa direzione. Sapete che l'orientamento, prima l'abbiamo detto sugli sci, ma se ne parliamo a livello di attacchi se pensiamo a quelli che erano dieci anni fa i Silvretta e tutti gli attacchi enormi c'è stata una rincorsa al peso, una rincorsa all'alleggerimento degli attacchi. Chi ne ha perso chiaramente è la sicurezza. Quindi oggi abbiamo tutti gli attacchi che troviamo sul mercato dello scialpinismo. Se apriamo la scatola c'è scritto attenzione stiamo vendendo a un cliente e il cliente sta acquistando un prodotto non di sicurezza. Questo perché le condizioni sono sempre mutevoli il terreno, la neve, la pendenza, il nostro peso perché a seconda che abbiamo uno zaino da gita di mezza giornata o di tre giorni l'attrezzatura che abbiamo sotto i piedi muta costantemente. Quindi per questa motivazione non c'è una tabella reale da seguire per dire lo dobbiamo regolare a XYZ. Tant'è che anche la parola DIN nel mondo dello scialpinismo non è una parola che ha un fondo di un concetto prestabilito. Però c'è una normativa che è la normativa ISO 9001 che prevede come gli attacchi da scialpinismo se seguono determinate caratteristiche possono essere approvati dal TUV che è l'ente normatore europeo e questo ente normatore possa dire effettivamente questo attacco sgancia bene sgancia in maniera corretta non sgancia in maniera troppo anticipata non sgancia troppo tardi quindi funziona bene quindi partendo da questa esperienza Schitrab ha deciso di lavorare proprio in quest'ottica cercare di andare a offrire dei prodotti che sgancino in maniera efficace cosa prevede la normativa allora la ISO 9001 prevede appunto che la prima cosa l'aspetto più semplice che tutti possono capire anche un cliente che non ha mai fatto scialpinismo e l'elasticità del posteriore quindi la torretta elastica dietro ci consente di assorbire i picchi di vibrazione che abbiamo in discesa quindi non sto dicendo non sto parlando di cadute ma sto parlando semplicemente di vibrazioni sulla neve anche quando abbiamo immaginiamo su una pista quindi non su un terreno mega tecnico magari una pista un po' rollata con qualche blocco di ghiaccio tutte queste vibrazioni devono essere assorbite quindi ci deve essere una molla tarata che assorba queste vibrazioni dall'altra parte poi sempre la normativa ISO prevede che il carrello quindi la piastra su cui viene montato l'attacco tenga la distanza soprattutto se andiamo in una compressione essendo lo sci molto flessibile se entriamo in un buco lo sci si flette lo scarpone è rigido quindi rimane tale e la molla se non scusate la forca dell'attacco se non avesse una molla che contrasta questo movimento andrebbe quasi a contatto con lo scarpone e in quella condizione lo sgancio sarebbe molto influenzato da questa cosa quindi per questo motivo noi abbiamo lavorato obbligatoriamente quindi dobbiamo montare i nostri attacchi su un carrello elastico appunto con questa mollettina all'interno che contrasta il movimento di frizione e si sposta fino a 9 mm verso il posteriore dall'altra parte anche lo ski stopper influenza molto lo sgancio avere uno ski stopper e avere uno scarpone con una suola in gomma c'è un rischio di un attrito molto importante quindi noi abbiamo lavorato in questo con uno ski stopper appunto lo vedete magari qua con questa mollettina che consente di svincolare e di non fare di non fare un ulteriore attrito quindi la costanza di sgancio per noi è una delle parole centrali un'altra cosa che chiede la normativa ISO è che non ci si possa dimenticare di aprire lo ski stopper in discesa quindi obbligatoriamente si deve aprire il nostro ski stopper sapete come funziona quindi semplicemente aprendolo indietro si attiva automaticamente noi dove abbiamo lavorato abbiamo appunto lavorato su un puntale completamente innovativo rinnovato a livello geometrico a livello di materiali eccetera con un'unica molla in titanio che consente di lavorare esattamente in maniera opposta quindi noi abbiamo una forza iniziale più bassa quindi lo vedete da qua come la nostra iniziale si abbassa ed è una forza che però cresce in maniera progressiva e non muore mai quindi aumenta sempre di forza nel concreto cosa serve? serve quando noi stiamo sciando a velocità medio alta perché comunque il movimento dietro avviene quando stiamo sciando in maniera abbastanza decisa quando dietro abbiamo un'apertura nella zona critica tra i 3 e i 4 gradi quindi sostanzialmente un'apertura di questo genere quindi una vibrazione abbastanza importante in quel momento che è l'area critica quindi è il punto dove l'attacco sta rischiando di sganciarsi o comunque siamo lì lì per dire o ci tiene o ci sgancia cosa sta per succedere è lì che il nostro puntale ha una forza che è quasi il doppio rispetto ad un puntale tradizionale in media ovviamente e questo appunto ci consente di dire che è un attacco che garantisce che lo sgancio accidentale il rischio di sgancio accidentale venga più che dimezzato quindi nel concreto uno sciatore medio che vuole un attacco sicuro perché chi mi prende l'attacco e poi in discesa scia con l'attacco bloccato non ha nessun senso proprio è una cosa è proprio un'antitesi completa di quello che è lo scialpinismo tutto quello che abbiamo detto prima cadrebbe quindi l'attacco da scialpinismo in discesa deve essere sempre utilizzato aperto e allora posso dire allora compro lo ski stopper allora metto il carrello eccetera eccetera ma perché uno possa sciare con la leva sempre aperta oggi l'unico attacco sul mercato ripeto approvato dal TUV è il Dynafit Rotation il nostro attacco sta andando in quella direzione non abbiamo ancora ottenuto la certificazione perché è un attacco molto molto leggero e in un'ultima prova che è la prova pendolo dove praticamente a scarpone inserito c'è un pendolo che da una con un peso da un colpo esposta alla torretta lì ci manca ancora due gradi per poter ottenere la certificazione la nostra direzione è proprio quella stiamo cercando di arrivare a garantire e quindi una certificazione ci potrebbe dire guarda che garantito oggi non ce l'abbiamo ancora però lo diciamo noi a voi e anche la vostra esperienza per chi l'ha provato e per tutti quelli che l'hanno provato è dire effettivamente sgancia bene sgancia quando deve sganciare i DIN vi dicevo prima è un numero ma non c'è una macchina standard che certifichi DIN e quindi noi abbiamo detto usiamo tre molle chiamiamola 5-7 così per darvi un orientamento circa dei DIN oppure chiamiamola morbida una molla intermedia e una molla dura così che sia anche il cliente stesso a scegliere cosa andare a montare sul suo sci l'ultimo aspetto è che è un sistema modulare quindi noi abbiamo in negozio attacchi con lo ski stopper e ne abbiamo anche senza viene il cliente che inizialmente l'ha comprato senza lo vuole aggiungere noi non dobbiamo toccarlo sci perché andiamo a lavorare solo sulle quattro viti che ci sono sulla piastrina abbiamo anche due piastrine una da 24 e una da 34 mm magari un cliente che inizialmente la prende giustamente da 24 perché è un pochino più leggera ma poi cambia lo scarpone non ci stiamo più dentro la dobbiamo allungare abbiamo l'opportunità di aggiungere ancora quei 0,5, 0,5 quindi un altro aspetto importante ripeto senza mai toccarlo sci passo agli accessori in maniera abbastanza veloce qui dall'altra parte abbiamo invece deciso di crescere quindi di investire in un reparto di ricerca e sviluppo di test prototipazione di alcuni accessori quindi stiamo man mano crescendo da un lato con delle collaborazioni esterne come quelle che sono guanti e bastoni dall'altro proprio con quello che è una ricerca interna ricerca interna che ci ha portato a presentare il nuovo casco aero allora il nuovo casco aero è un casco che è stato sviluppato completamente a bormio quindi l'abbiamo lavorato dall'idea al design alla prototipazione alle misure quindi proprio al prendere le circonferenze delle teste per andare a rendere un casco che possa calzare comodamente su tutti abbiamo deciso di lavorare qui perché fino all'anno scorso avevamo il casco gara che avete avuto anche voi nei negozi che è stato utilizzato tantissimo da chi cerca il casco da scialpinismo sia da competizione che non oggi la doppia certificazione è cresciuta molto quindi la richiesta di un casco a doppia omologazione è cresciuta e quindi abbiamo detto andiamo a lavorare in quel settore lì in quel settore dove avevamo ripeto un casco che andava benissimo era uno dei caschi più venduti però aveva un limite il limite era che avevamo uno stampo solo cambiava l'imbottitura interna e quindi una testa medio grande non lo calzava perché era troppo piccolo abbiamo lavorato innanzitutto su due stampi quindi due calotte differenti in maniera tale da garantire un passaggio d'aria vedete delle prese d'aria qui davanti e vedete un'uscita posteriore abbiamo fatto una chiusura posteriore con un sistema si chiama ATOP ma è un sistema simil boa sostanzialmente e soprattutto abbiamo lavorato su due calotte distinte quindi la taglia SM che avete già nei negozi e la taglia LXL che arriva fino a una circonferenza di 63 mm quindi 103 cm quindi molto molto grande e lo avrete a breve nei negozi abbiamo tre grafiche tre colorazioni che sono grigio, nero e bianco questa è la versione la versione nera e cos'ha di vincente? di vincente ha due aspetti allora uno tre aspetti il primo è appunto questo il comfort renderlo esteticamente un po' più bellino ma soprattutto leggerissimo perché questo è un casco che nella taglia S fa 280 grammi circa talmente leggero che quando eravamo in fase di omologazione visto che ripeto abbiamo fatto tutto noi quindi qui in Veneto abbiamo lavorato con questo ente certificatore ci ha detto ma perché non fate anche la certificazione da bici? effettivamente si è riusciti a lavorare anche su quella certificazione quindi l'abbiamo dovuto correggere in alcuni punti ma oggi riusciamo a offrire un casco da scialpinismo e da scialpino e da bicicletta in 270 grammi 280 grammi coi bastoni al contrario vi dicevo abbiamo una forte collaborazione con un marchio italiano di Milano di Opera Cober sullo sviluppo dei nostri bastoni quindi abbiamo una gamma molto completa i bastoni che voi avete in collezione sono il classico bastone da gara quindi il vertical con l'anima con tutto in carbonio 100% abbiamo il bastone gara che è sostanzialmente come questo ma in alluminio quindi identico ma molto più resistente chiaramente pesa qualche grammo in più abbiamo poi uno di quelli dei bastoni più venduti che è Levo che è molto resistente quindi una canna in alluminio con un diametro molto largo proprio per garantire una massima durabilità nel tempo il bastone gavia che anche voi l'anno scorso ne avete venduti una marea che è stato uno dei più venduti proprio per il discorso della regolazione quindi abbiamo lavorato su una regolazione molto semplice immediata e funzionante proprio perché potendolo stringere e allargare è molto semplice e molto comodo anche qui è un foam lungo soprattutto perché nella fase di salita magari sui traversi ci serve un appoggio più ampio e lo stesso tipo di papera che viene montata su Evo quindi morbida flessibile chiaramente il cliente deve sempre ricordarsi quando lo allunga lo accorcia di tenere la papera orientata correttamente quello è l'unico accorgimento da tenere l'ultimo aspetto invece il bastone su cui vi faccio perdere un minuto invece è il bastone Hortless questo è un bastone che al contrario abbiamo deciso di lavorare di sviluppare noi internamente quindi a contatto con le guide quotidianamente a contatto con per lo sviluppo di prodotti di test di sci eccetera materiale abbiamo detto perché non proviamo a fare anche noi un bastone per le esigenze che ci servono quindi qual è stata la prima esigenza la prima cosa è stata quella che un bastone gavia per esempio vanno molto bene perché comunque rimangono belli stabili è molto difficile anche da chiudere però capita magari che su dei pendii molto ripidi dove c'è un terreno molto duro delle condizioni un po' aggressive avere il bastone che si possa allungare accorciare in discesa poteva capitare tante volte magari quando si è sul ripido che ci si appoggia il bastone ci cambiava l'altezza per questo motivo abbiamo fatto un bastone innanzitutto in carbonio 100% carbonio molto molto rigido quindi anche a livello di performance molto alta con una canna fine ma resistente quindi un carbonio ad alto modulo molto resistente abbiamo fatto un bastone che parte dai 155 di altezza e si deve regolare quindi noi in negozio abbiamo un bastone solo quindi non abbiamo una lunghezza poi a seconda del cliente diciamo bene tu in discesa lo vuoi usare a 115 allora lo andiamo a tagliare in maniera tale che quando poi arriviamo adesso ovviamente questo è lungo quindi non riusciamo a comprenderlo bene in salita lo teniamo su bello alto poi in discesa quando arriviamo non dobbiamo guardare lo devo regolare a XYZ andiamo giù a tappo e abbiamo la massima stabilità quindi anche quando siamo magari su un pendio ripido dove ci viene da fare il saltino comunque la curva la virata stretta abbiamo l'appoggio completo del bastone come se fosse un pezzo intero manopola in sughero quindi anche qua per alleggerirlo quanti abbiamo un guanto un over glove quindi un guanto molto caldo che viene utilizzato per le gare prevalentemente quindi viene utilizzato così con sotto un altro guantino andiamo su un destro ecco tipo questo proprio con sotto un altro guanto proprio perché per chi fa gare in caso di di freddo può fare questo passaggio semplicemente in maniera molto diretta quindi un over glove orientato al mondo gara poi nel mondo gara abbiamo i due guanti di riferimento della ski trap quindi il classico guanto a cinque dita con rinforzi sui palmi sono tutti touch quindi visto che adesso era un'altra caratteristica molto richiesta con una moffolina molto leggera un antivento proprio in caso di pioggia e vento versione maschile versione femminile abbiamo poi un guanto leggermente più economico ma fatto sullo stesso stile quindi identico al work up ma senza la moffola esterna quindi un po' come come lo ski il work up e il gara anche questo l'abbiamo chiamato gara poi uno dei guanti invece molto tecnici che abbiamo lavorato che abbiamo sviluppato l'anno scorso sono tutti in collaborazione con Level che è un marchio che a livello di scialpino credo che conosciate tutti quindi tutti i guanti ce li fa Level e abbiamo un'ottima collaborazione anche perché loro come azienda nascono a Bormio poi adesso sono in Svizzera però abbiamo una collaborazione molto diretta l'anno scorso abbiamo sviluppato questo guanto che è il Maestro con un interno in lana quindi molto molto caldo ma anche molto performante li abbiamo sviluppati tutti con questo puller così che sia molto molto facili da calzare con la possibilità di visualizzare l'orologio quindi con window watch molto ampio e molto comodo da utilizzare quindi questo è stato un guanto che l'anno scorso è andato benissimo tant'è che anche voi appunto l'avete reinserito in collezione alta termicità ma anche ottima manovrabilità del prodotto correttamente poi vi hanno messo avete in collezione due guanti uno molto leggero quindi con la moffoline che quindi consente di aumentare soprattutto la riparazione da neve o pioggia o vento però leggero quindi un guanto prevalentemente da salita invece un guanto che come dice la parola nordic nel senso nacque per per quello che è lo sci di fondo però essendo un guanto molto economico però bello protetto con della pelle scusate sul palmo consente di avere un'ottima manovrabilità rimane leggero però anche molto caldo quindi per un guanto economico di buon livello sicuramente è un ottimo target e in ultimo abbiamo la moffola la classica moffola anche questa con il puller interno in lana quindi molto molto calda con la possibilità di uscire con le dita sia le quattro che il pollice in questa maniera se dobbiamo fare delle manovre però rimane molto caldo e poi lo teniamo calzato in questa maniera è uno zaino molto molto leggero sullo stesso stampo di quello che era l'altavia che avevate già gli altri anni nei negozi abbiamo deciso però di renderlo molto ancora più tecnico quindi cercare di migliorare quello che è l'utilizzo per una guida o comunque gente di altissimo livello quindi una tasca porta materiale che si apre dalla parte inferiore quindi per mettere materiali di sicurezza la pala la sonda la benna della pala con un'apertura inferiore quindi un'apertura da sotto proprio perché in caso di emergenza quando abbiamo lo zaino calzato e dobbiamo velocemente tirar fuori quelli che sono magari la sonda o il manico della pala perché magari ci rimane travolto un amico e vogliamo aprirlo in maniera molto immediata facendo questa procedura riusciamo a sfilare dalla parte sotto magari già il manico della pala e la pala così da poterci lavorare senza dover sganciare tutto togliere eccetera quindi questo è il primo aspetto su cui abbiamo lavorato dall'altra parte abbiamo cercato di renderlo il più minimale possibile quindi il più pulito e semplice possibile esternamente ma dando tutte le caratteristiche abbiamo messo i lega piccozza nascosti sostanzialmente quindi se un cliente adesso questo è sganciato se un cliente non lo vuole utilizzare semplicemente lo tiene nascosto in questa maniera qua allo stesso modo la cover del casco quindi cucita sullo zaino quindi in questa maniera che non si possa perdere il casco non possa scappare da sotto e che venga bloccato in questa maniera qua se un cliente non utilizza il casco semplicemente lo lasciamo sotto bello piano e non si vede neanche sempre la tasca posteriore abbiamo inserito una tasca nasce come portapelli quindi o come materiale d'emergenza se abbiamo qualcosa lo possiamo infilare lì gli sci vengono incrociati lateralmente quindi a capanna con l'acciolo classico in cima alla tasca principale invece si accede sia da sopra quindi a mo' di sacco che sono le cose quelli che vanno di moda sostanzialmente adesso oppure però allo stessa maniera si può accedere da dietro con con un classico separé come se fosse una valigia come quello che era l'alta via l'anno scorso una tasca vicino alla parte posteriore per materiale pulito quindi magliette di ricambio eccetera e poi tutta una serie di taschine che ci consente di mettere in sicurezza tutto quello che è il materiale a nostra disposizione il pannello posteriore è molto traspirante protettivo ma molto traspirante chiaramente il materiale di sicurezza in particolar modo la pala che potrebbe incidere con il nostro corpo è molto lontana quindi non abbiamo non abbiamo questo tipo di pericolo e ha due porta soft flask sulla parte anteriore fino a 600 ml ci stanno quindi è molto comodo e poi anche per dare un po' un uno stimolo a livello di conoscenza ai nostri ai nostri clienti di tenere il cellulare lontano da quello che è l'apparecchio di ricerca proprio per un discorso di interferenze non è facile e quindi abbiamo proprio volutamente volevamo prima mettere due tasche chiuse poi volutamente abbiamo fatto solo la tasca a sinistra chiusa con cerniera così che il telefono stia tra virgolette lontano mentre a destra invece una taschina aperta elastica che però il cellulare non ce lo si mette ecco grazie a tutti Grazie.